Allora, Dorway è una piattaforma online per cercare di far incontrare investitori privati, business angel, professionisti, manager, affinché gli stessi possano investire in start-up o PMI ad alta scalabilità. Questa è una piattaforma autorizzata Consob, abbiamo avuto l'autorizzazione Consob in novembre del 2018, abbiamo presentato adesso le prime campagne online che sono adesso in raccolta nell'ottica di cercare di avere un luogo in cui start-up e PMI possano trovare non solo soci di capitale, ma anche soci che possano apportare competenze nell'ottica dei business angel, perché il business angel fa questo, cioè aiuta non solo con capitali, ma anche con delle competenze che possono appunto servire alla crescita di queste start-up.